Amici del Grande Calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzacu e io sono Tatsuna. Amico mio, dobbiamo fare il pre-partita di Napoli-Palermo perché ritorniamo a giocare la Champions League questa settimana, quindi partita infrasettimanale. E c'è capitato il Palermo, una sfida ostica, però l'Europa questa ci sta, sto scherzando, è una battuta ragazzi, prendetela a ridere. Ma poi le ostriche a Palermo, i sapori del mare ci stanno. Quindi facciamo sopra la partita, conosciamo pure un po' il Palermo, è comunque una squadra di serie B, quindi magari molti non la conoscono proprio. E il tema è turnover massiccio, riconfermerà gran parte dei titolari, quindi ci sarà solo qualche cambio. Vediamo. Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo. Se volete seguiteci su Instagram e anche su TikTok, sempre senza giri di parole ci chiamiamo, e condividete i nostri video così ci aiutate a crescere come canale. Se volete, se ci volete supportare, ci stanno gli abbonamenti, però lo dico sotto voce. Allora, la formazione che probabilmente metterà, questa è la formazione più o meno, danno i giornalisti come probabile, è Caprile, Rafa Marin, One Jesus, Mazzocchi, Spinazzola, Gilmour. Noi abbiamo messo Anghissà, però danno addirittura Foloruncio, però ne abbiamo messo Anghissà, Filonsh, che sarebbe Foloruncio, Raspadori, il posto di Quara, Neres e Simeon. Che ne pensi? E non mi sembra una formazione completamente sbagliata, è ovvio che tu questa partita accetti di perderla, nel momento in cui scrivi Buon Jesus. Vabbè, questa è roba, so dire, mi pare un po' che esagerare. Però si sono d'accordo. Perse 3-0 cover 1, non puoi perdere cover 1. Ti dico, allo stesso tempo, mi sembra esagerato, però hai ragione, cioè, hai ragione, non ci posso, guarda, non fa una piga. Io sono emozionatissimo, però, cioè, io questa partita, se tu hai deciso di schiarare One Jesus, io non lo metterei Rafa Marin. Io sono emozionatissimo nel vederlo, ma non lo metterei, perché a me mi dispiace Buu Aglione, che deve debuttare nel Napoli One Jesus come compagno di Levar. Però, però, la cosa positiva è che se c'hai Revan Jesus vicino, sicuramente hai più possibilità di metterti in mus, cioè di brillare rispetto al tuo compagno di Levar. Sì. Allora, dall'altra parte invece ci sta un Palermo, che è una squadra che in Serie B ha dimostrato di voler fare un calcio comunque propositivo, Dionisi comunque possesso palla. Ci sono state partite pure dove ha subito di più il gioco dell'avversario, però notoriamente sembrerebbe una squadra che vuole comunque imporre il proprio gioco. E ha eliminato, per esempio, nello scorso turno il Parma, una partita che travalente, se io mi sono visto, perché ero convinto che il Parma avrebbe praticamente distrutto il Palermo. Invece, abbiamo visto una partita dove il Parma cercava di segnare in tutti i modi, ma non c'è riuscito. Poi, fine primo tempo, riesce a segnare il... o inizio secondo tempo, ma non mi ricordo. Se non ci parla di fine primo tempo. Segna il Palermo e da lì in poi il Parma che mi ha aspettato, ma fa un secondo tempo clamoroso. Invece il Palermo ha tenuto quel risultato fino alla fine. Addirittura sta pure passando in vantaggio con 2-0, quindi una squadra che comunque può essere un fastidio. Ci stanno dei nomi che noi conosciamo, tipo Roberto Insigne. Che fai? Il gol di Roberto Insigne, non lo vuoi subire. Ci sta, ci sta. Ma anche Thomas Henry è uno che ci ha fatto gol in passato, quindi ci sono delle conoscenze. Poi c'è il Gomez che io conosco bene, il giocatore che io conosco bene perché l'ho avuto in varie carriere nei giochi di calcio e quindi sono pronto a subire questo gol da parte sua. Non mi sarebbe assurdo. Il portiere è forte. De Planchers è forte proprio come portiere. Sta pure in forma ultimamente. Quindi dovremo anche essere bravi a battere un portiere comunque forte. La formazione faresti tu? Eccola qua. Allora, io ben consapevole che davanti abbiamo un allenatore bravo ma caprone come Dionisi. Perché Dionisi è uno che io ho stimato per il suo lavoro al Sassuolo. Ma è un allenatore che non è capace di vedere oltre il proprio naso come tanti altri suoi connazionali in questo momento. Quindi è uno che cercherà di giocarsi l'avviso aperto a priori di tutto. Quindi per quel che mi riguarda in questa partita il Napoli dovrà puntare a farne uno più dell'avversario perché ha la tecnica superiore per poterselo permettere. E quindi io partendo dal presupposto che avrei fatto di tutto e quando dico di tutto dico che avrei reintegrato anche Mario Rui in rosa pur di non far giocare Juan Jesus. Fortunatamente non siamo dovuti arrivare a questo estremo per mettere su una formazione senza Juan Jesus. Però abbiamo dovuto dal mio punto di vista far giocare Buongiorno un'altra partita. Però questo mi ha aiutato perché io potevo mettere al posto di Buongiorno a sinistra come potete vedere la difesa e ovviamente Caprile è forzato perché io sinceramente voglio bene a Contini ma ci sta ancora a Contini? Sì, Caprile non me lo posso permettere adesso di metterlo fuori perché deve acquisire un po' di esperienza, di mestichezza con la squadra perché probabilmente per il prossimo mese stiamo con lui. Sì, è sicuro. Sì, deve stare per forza con i compagni un po' per dire un po' di ambientarsi. La difesa, dicevo, è Mazzocchi a destra come Braccetto Rafa Marina al centro e Buongiorno a sinistra E sta scelta di Mazzocchi-Braccetto particolare, esotica posso dire? Esotica, pure Zerbine da messo qui al posto di Spinezzo. Io penso che Mazzocchi sia più adatto in quel ruolo che come tornante di destra se proprio deve giocare titolare. Adesso non più che siamo passati a quattro ma io ho sempre pensato che Di Lorenzo stesse meglio come tornante a destra e Mazzocchi dietro a coprirlo però devo dire Mazzocchi si è comportato tutto sommato bene è stato l'anello debole della squadra finché ha giocato ma si è comportato bene perché è uno staganovista quindi funziona benissimo così come sta quindi mi fido di lui in quella posizione. A destra ho potuto realizzare il mio sogno bagnato di mettere McTomin che io l'ho detto sin all'inizio che secondo me poteva essere preso anche per questo motivo Follorush e Gilmour a centrocampo per me sono obbligati vorrei far giocare anche Angissa perché mi sembra di capire che il mister lo ritenga indispensabile però io Angissa lo conosco meglio di lui fidati Antonio Fancelli fasti 10 minuti in banchino perché chi sta mora? Chi sta arriva a Natale? Che veramente trovi in duco in deconfit quindi non è il caso e Zerbin a sinistra Zerbin a sinistra perché a parte che vabbè come dice benissimo il nostro compatriota Spinazzola de Nasla Olivera non voglio farlo affaticare perché tra le partite giornate giochiamo di nuovo e Zerbin io sinceramente lo vedo parte del progetto quindi per me è inevitabile uno potrebbe dire ma allora perché metti in gong a sinistra? Mettilo a destra, l'hai sempre giocato a destra eh ma Zerbin è un destro ragazzi quindi preferisco avere comunque uno a sinistra che è mancino e che quindi può giocare sul piede forte su quel lato senza dare troppi fastidi a Zerbin che comunque è una posizione per lui inusuale come tornante perché lui ha sempre fatto l'ala a sinistra Raspadori per me è obbligato perché ha da Yuka e Simeone punta mi va bene avrei potuto mettere Neres e poi concludo non lo metto soltanto perché dal mio punto di vista Neres è titolare quindi deve giocare la prossima col Monza titolare perché ovviamente se invece col Monza deve giocare Politano io mi metto Raspadori e poi se Simeone metto Neres a destra sì ci sta ci sta io invece vabbè siccome dalle parole di Conte la via deve essere questa io la cavalco voglio cavalcare questo punto a questo punto riconfermo più o meno lo stesso modulo che abbiamo fatto contro la Juventus io l'ho messo così 4-2-3-1 perché sinceramente più che 4-3-3 mi è sembrato cioè abbastanza diverso dal 4-3-3 classico quello che ha fatto McTominay quindi io me lo immagino più così sinceramente io ho praticamente buongiorno l'ho lasciato pure io perché comunque non sinceramente non voglio fare troppo turn over contro il Palermo non è da sottovalutare sinceramente quest'anno in Coppa Italia vorrei andare avanti quindi buongiorno lo lascio qui ci metto Raffamari in vicino che deve giocare assolutamente deve debuttare ma Zocchio e Spinazzola che sono i due sostituti deputati dei due terzini Olivera e Di Lorenzo di Tolari a centrocampo io metterei la coppia scozzese che è già affiatata quindi Gilmour-McTominay bello che poi McTominay ha giocato solo una partita tenendo una salute fier su Aglioni sinceramente deve giocare adesso è arrivato il suo momento quindi lo sfruttiamo al 100% McTominay quindi con Gilmour mettere Quara che è stato cambiato praticamente negli ultimi 20 minuti non ha giocato più il recupero quindi in teoria dovrebbe stare abbastanza fresco e fare questo attacco top Quara Raspadori sottopunta Lukaku Neres e Lukaku passiamo in vantaggio primo tempo li dobbiamo distruggere in base al risultato nel secondo tempo poi iniziamo a fare i 5 cambi quindi iniziamo a sostituire i titolari che ci serviranno anche contro il Monza io direi io per esempio preferirei fare una cosa del genere prima mettiamo a sicuro il risultato e poi facciamo turn over piuttosto che fare turn over incredibile poi magari arriviamo nel secondo tempo dove c'è ancora il risultato in bilico e siamo costretti a mettere pure i titolari in una situazione complessa quindi io cercherei di imparare dagli errori fatti negli scorsi anni e fare una formazione un pochino più seria allora però probabilmente metterà questa formazione qua come hanno detto nelle probabili ma magari Conte ci sorprende un'altra volta metto 3-5-2 oppure il 3-3-1-3 grande lui si è ric lui si è ric va bene ragazzi io direi risultato esatto aspetta qua ti voglio risultato perché lui lo scorso video ho indovinato io il risultato esatto quindi voglio dire se indovini tu stavolta 3-1 per il Napoli 3-1 per il Napoli il gol ce lo fa Roberto Insigne perché dobbiamo pagare Nazio ok invece l'altro gol noi un gol ce lo farà Spadori il suo primo stagionale la gente dirà anche vabbè ha segnato contro Palermo un altro lo farà McTominay che è molto ispirato e l'ultimo ce lo fa Rafa Marin su punizione bello diretta cioè di testa dici sì sì cross punizione alla Cristiano Ronaldo nel set no io farei un 4-0 per il Napoli sono abbastanza fiducioso per questa partita giocherà sicuramente Gilmour quindi secondo me segna Gilmour segna Raspa segna Neres e Scott McTominay deve trovare il gol Scott McTominay deve trovare il gol mi riterrei abbastanza soddisfatto con il risultato del genere ragazzi questo video può terminare qui fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi il risultato esatto scrivetelo veramente così poi lo facciamo vedere nel post partita se qualcuno ha indovinato il risultato con i marcatori condividete il video così ci aiutate a crescere come canale forza Napoli sempre adiu grazie a tutti